il premio Bristol che vede al via soggetti di tre anni non corre Ceresbio restano in dieci prima fila Condor Boccino Carbone, Cinecittà, Par Confucio, Chanel, G e Coffey Z in seconda Ciccio Jet Carris, Churchill, Gar e Chanel, Zach e LG partenza Carbone è il più sollecito velocissimo dalla seconda fila il favorito Churchill, Gar che punta in avanti le posizioni si stanno delineando poi Carbone rispinge Cinecittà, Par seconda posizione Condor Boccino in terza Confucio mentre Churchill, Gar viene posto da Gaetano Di Nardo in seconda pariglia 37 il quarto iniziale nulla cambia anche all'altezza dei 600 che Carbone può percorrere in 46 e mezzo Ciccio Jet squalificato si arriva così al completamento del primo giro Carbone viene attaccato e quasi sopravanzato da Cinecittà Par 1-2 e mezzo il giro si libera Churchill, Gar che in terza ruota sta girando i due avversari in calo e si distende Churchill, Gar prende anche margine Cinecittà resiste in seconda posizione mentre trova l'azione giusta Condor Boccino 1-33 e mezzo i tre quarti di miglia una frazione di fronte in 14 e mezzo ha sbagliato Cinecittà Par rimane isolato in avanti Churchill, Gar ingresso in retta Churchill, Gar facile con netto di stacco su Condor Boccino che sbaglia nei metri conclusivi e così seconda moneta per il numero 4 Confucio e per il terzo dovrebbe essere l'11 Chanel Zac ma abbiamo bisogno di rivederla Churchill, Gar a media di 1,18 isolato i colori della Zaconjou per l'allievo del team Squeglia al secondo dicevamo Confucio e dal terzo molto probabilmente Chanel Zac di rivederla e dal terzo di rivederla di rivederla a di rivederla a di rivederla di rivederla Grazie a tutti.